ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video video challenge tra leonardo e azzurra questa volta su uno conoscete tutti uno uno comunque è un gioco di carte molto famoso dove vince chi resta senza carte sostanzialmente giusto bene non far vedere le carte azzurra che leonardo spia niente non è colore non è lo stesso numero peschi attenzione che ne buttate giù fascia c'è nardo cambia colore attenzione azzurra neanche è stata fortunata già cambia colore niente di niente brava di lì anche il colore specifica anche il tipo di carta attenzione eccola qua questa è una carta gialla vedi che ti aveva detto uno no già finita così la tua è un po' sfortunata nelle challenge anche l'altra volta la gina e la gallina non è possibile allora mescoliamo seconda manche ora mi raccomando non dire i colori delle carte il colore sarà ok sinistro con il blu pronti prima invece lei ha buttato sbaglio o avete iniziato senza una carta prima l'azzurra e le sue regole vabbè chi l'ha buttata quello lì? sì lei lei quindi devi buttare ancora azzurra sì no ma vai pure tranquilla con la tua calma con la tua calma serafica ci stiamo addormentando cambia giallo che? giallo? sì ok e allora vado con due non tante no invece è un 3 così è un 3 quindi mi dispiace ma cambio colore in verde va bene non fare vedere le carte azzurra lentini verso di Leo dai su attenzione uno ecco ha detto uno e si è beccato anche quattro carte cambio rosso e devi tirare sempre tu perché salta il turno ho detto uno e ho detto che cambio rosso tocca a te per sempre a te no ma tocca sempre all'azzurra no e perché? ah sì è vero tocca sempre all'azzurra tocca a te e quindi vince eh 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 vero mio cos'è il balletto della vincitrice? forza mescolare per il terzo round questa volta la facciamo vedere che cosa? come Leo mescola a me che si ovviamente da lì c'è a zitta allora no poi la vai in mezzo cosa fai? cosa fai? cosa fai? cosa fai? sette carte all'azzurra stavolta inizia Leo perché ha perso eh 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 sette carte all'alto e adesso inizia Leo andiamo attenzione s'il vous plait attenzione azzurra ancora secco cambia il rosso e ti becchi anche quattro carte e salti pure il turno esatto ok eh dopo che ho detto rosso salti ancora il turno e ripeschi altre due carte ma va sì e uno vabbè avrai un più due avrai un più quattro only one card azzurra mi tocca di nota intanto no eh che anche quelle altre due carte azzurra sono tue uno non hai in che un camion fai grandissima tocca ancora a te azzurra sì attenzione vai azzurra come cazzo cosa c'è questa musica non lo so è l'azzura che si fa la colonna sonora vai basta perché azzurra ne ha un sacco invece azzurra ne ha un sacco invece uh attenzione cambio colore azzurra ormai penso abbia tutti i colori del mondo con tutte le carte che ha preso però penso che ti abbia quasi preso sai tocca a te azzurra ah sì stavo per pescare la mia carte attenzione e taglie ha cambiato colore tiè ciapa qua tiè arte povera ancora a te azzurra tocca di nuovo a me tocca di nuovo a Leo che giocata che ho fatto veramente eh beh passo top top no passi ok tanto devi pescare di nuovo quanto per il nuovo uh la la uh la la uh la la cambio 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 in ilu 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 allora ilu tocca a te allora si allora tutto ancora a te azzurra cosa stai dicendo cioè perchè per dire cioè allora se tanto vi da tanto 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 io tanto sono capace che colore cambi sempre blu ah questa questa partita tocca di nuovo a me eh dai eh uh 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 non ho visto oh yeah io devo tirare un po' di carte blu perché ecco l'azzurro che sta preparando il carico pesante no ho tirato io no è questa la toccata è azzurra quello lì l'ha messo Leo passo e passa che faccia hai fatto e con uno zero? va bene va bene e salta il turno una noccata e cambio colore per me è uguale rosso vai azzurra più due rosso no non spessavo tocca di nome faccio una cosa del genere basta fare la musica cambia in giallo tocca a te giallo? ecco la faccia niente sì sì niente il mio prototipo è finito il tuo prototipo ma come stai? passo ti dà una mano l'azzurro e prendono un po' di carte stai a fuori tocca ancora a te sì sì le mie carte hanno sconeggiato però sì Leo vabbè non ti ho capito ancora? sì sì tocca a te uno e cambio in gialletto giallo che carta hai? niente no attenzione ho detto uno eh eh ma lo devi dire no no non l'hai detto e dai e dai perché diste quattro cartucce angiurro no e dai lo devi sempre dire ogni volta che devi con uno e dai non finisce più questa partita attenzione se finiscono le carte chi vince chi ha meno carte in carte io cambio proprio in verde in verde? hai tirato devi sempre tirare il tuo azzurro e devi tirare ancora vieni è già finito il verde passo cambio in giallo anche il giallo niente salto in turno butto uno zero il bottone zero perché specifichiamolo signorina niente questa qua giuro sarà la partita più lunga di questo gioco infatti chi fa questo vince aspetta aspetta ma quanto siete uno pari sì uno pari siete quindi dai dai attenzione il cambio colore all'ultimo colpe critico passo tocca ancora l'azzurra attenzione azzurra mi raccomando tocca Leo Leo cambia il colore all'ultimo secondo con il giallo che l'azzurra non riesce ad avere non lo so non lo sa nessuno è un 4 niente no niente passo mai Leo non ho mai visto facendo una collezione ok azzurra passo qua si sta sottigliando tocca te ancora giuda passo cambio in verde ti adoro salto in turno vai tocca a te passo prendi la cazzo prendi la cazzo dai un 1 il cambio colore cambio colore in rosso ok 1 e finiva guarda 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 prendi la cazzo ma lena vai dai bella partita però guardate quanto bella cazzo vincitore della prima challenge 1 di casa si meriti i soldi azzuleo ciao vabbè ragazzi mettete là che se volete una musica fatta tutta da azzurra perché guardate il prossimo sottofondo musicale lo fa solo azzurro bene ragazzi spero che questo video vi sia bettuto mettete un bel like poi iscrivetevi al canale e poi attivate la campanellina attivate vabbè ragazzi attivate la campanellina come ha detto la nostra carazzura e ci vediamo al prossimo video ciao ciao